Pullman. Ok, ciao, arrivederci. Ciao a Patti, ma grazie. Pronto? Sì. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Parlo con la signora Mariela. Mariela, da dove ci chiama? Da Belvedere. Ah, Mariela da Belvedere, buonasera, benvenuta. Buonasera a voi. Intanto la nostra Chiara sta cominciando a fare le crepes. Sì, e io volevo sapere una cosa riguarda le crepe. Quanto latte avete messo? Allora signora, non abbiamo detto le proporzioni, perché mettiamo il latte in base alla consistenza. Quando il composto risulta velato, cioè che alzandolo con il cucchiaio si vede velato al cucchiaio, vuol dire che non ce ne va più. Intanto la prima crepe un po' esce. Ho capito. Siete bravissime tutt'ora. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Vi faccio tanti e tanti complimenti. Grazie. Grazie a me che stasera ho preso la linea. E noi siamo molto contenti di questo, cara signora. Lei ci segue tutte le sere, vero? Sì, sì, tutte le sere la seguo. Oh, ci fa tanto piacere. Mi l'indico con mio marito. No, anche lei. Mio marito vede la televisione in camera da letto e io sto qua in cucina. E mi sembra giusto, mi sembra giusto, cara signora. Lo mandi in camera da letto, va bene? Lei continua a seguire Masterchef. Va bene, allora vi faccio tagliare un cuore. Grazie, grazie. E tante cose bene. Siete tutte brave. Grazie, grazie. Continuate così, continuate così. Va benissimo, grazie mille. Noi continueremo. Grazie mille, grazie. Prego, buonasera. Arrivederci. Buonasera. Allora, intanto la prima crepe non esce buona perché la padella deve riscaldare per bene. Le cialde però sono riuscite bene. No, non so, non ce n'erano cialde. Pronto? No, sono finite le cialde, vero? Sono finite, pronto. Buonasera. Buonasera. Pronto? Con chi parliamo? Eh, pronto? Buonasera. Buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Sono Luigi. Chi? Lui. Chiamo da Luigi. Lui. Chiamo da San Nicola di Caolonia. Luigi. A dire la verità non chiamo. Non chiamavo proprio per il programma di cucina, volevo solamente fare una comunicazione di servizio. Comunque mi approfitto per farvi i complimenti perché in mezzo a tutti i programmi tristi che si vedono sugli altri canali almeno c'è il vuoto che ci rallegrò un po', ci tirò un po' su. Oh, e questo ci fa tanto, tanto, tanto piacere. Grazie. Ci stanno dicendo tutti questa cosa. Volevo comunicare, se era possibile, con qualcuno dei vostri tecnici perché da qualche giorno non riusciamo più a riceversi molto bene in questa zona. A Caolonia. San Nicola di Caolonia. A Caolonia non riusciamo. Sì. San Nicola di Caolonia. È una relazione molto all'interno. Cara regia, San... ripesi, scusami. Non c'è poco. San Nicola di Caolonia. San Nicola di Caolonia non riescono a seguirci molto bene. Io l'ho comunicato, va bene Luigi, grazie. Da quando dicevi? Grazie. Da quanti giorni? Da un paio di giorni, da un paio di giorni a questa parte. Ora non so se dipende dal dipenditore di Cropani che manda il segnale su questa tratta, diciamo. Va benissimo, io lo sto, i tecnici ti stanno sentendo e lo sto comunicando, Luigi, va bene? Però segui anche il programma di cucina, va bene? Perché non si sa mai. Esatto, no, io ci faccio tutto il programma di cucina, per questo ho telefonato a quest'ora. No! Perché non riesco più a vederli. No, perché quando hai detto non chiamo propriamente per la cucina, ho detto no, allora non ci seguo. No, no, non solo per la cucina, voglio dire, no, perché sono maschietto, voglio dire, non è che tanto mi diletti di cucina, però mi piace, insomma, seguire le vostre ricette ogni stanza, anche per variare, insomma... Un po' il menù, un po' il menù, bravo, hai ragione. Un po' il pianto, sì. Hai ragione, caro Luigi, abbiamo dato la tua comunicazione di servizio e ti ringraziamo per avercelo comunicato, va bene? Grazie a voi. Grazie mille. Grazie a voi, buonasera. Grazie, grazie a voi. Allora, io, Simone, io volevo dire una cosa, siccome c'è il mio cugino che cerca sempre di chiamare tutte le sere che ci sono, solo che purtroppo non riesce mai a prendere la linea, perché lui cerca di chiamare quando noi non parliamo per non disturbare. No, no, non ti preoccupare. Però non riesce mai a prendere la linea. Come si chiama? Rosario. Oh, Rosario, e lo salutiamo tanto, Rosario. Pronto? Claudia! Senti, si muori. Senti, dimmi. Complimenti a queste due ragazze, perché se l'avrei vicino, li bacerei a tutte e due, forse vostre. Grazie. Grazie, signora. Grazie, signora. Poi un'altra cosa, mi devi dare il numero di liberata, perché io voglio parlare con Siderata. Va bene, io ti darò il numero di liberata, cara Claudia, sicuramente mi metterai in contatto, va bene, Claudia? Sì, perché è troppo simpatica che mi fa morire. Ma senti, ma ti ho sentita un po' nervosa prima. No, eh, va bene. Io quando mi nervosisco un pochino poi vado fuori faccia, ma se vado proprio fuori faccia poi non ve lo voglio dire. Ma ti parte l'embo, quindi, come parte a me ogni tanto. No, ma noi lo direttimiamo. Niente di grave, niente di grave, dai, ogni tanto ci si può anche... No, 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 niente, poi te lo dirò. Eh sì, perché tu sai che io sono poco curiosa, vero? Poco? Sì, lo so, lo so che sei curiosa, ma non gendi tu, non gendi proprio. Ah, va bene, già questo tira un sospiro di sollievo, Claudia, però chiunque c'entri non è bello mai. E evitiamo tutte le cose perché è meglio così e va meglio. La trasmissione forse continuerà meglio. Brava, perché noi dobbiamo portare avanti questo programma che vi piace, sempre di più, portarlo sempre più in alto e lasciare tutto il resto a terra. Tutto il resto in noia. Va bene? Ma più tardi mi vedo a Maria Cristina e a Leo. Brava. E mi saluto a Maria Cristina e a Leo. A Maria Cristina un bacione. Va benissimo, va bene. Sarà fatto, cara Claudia, va bene? Va bene. Un bacio grande. Ciao, Claudia, grazie mille. Ciao, ciao. Mi raccomando a Liberata, dammi il numero perché voglio parlare con Liberata. Regia, per favore, se mi scrivete il numero di Liberata così poi lo darò a Claudia, va bene? Ciao, ciao. Ciao, ciao, cara Claudia. Allora, abbiamo messo, la crepe l'abbiamo impiattata e andiamo a spolverizzarla o di cacao o di zucchero a velo. Allora, stiamo continuando a fare le crepe. Pronto, buonasera. Buonasera. Con chi parlo? Ciao, con chi parliamo? Buonasera. Con Rosita. Rosita, sei tu? Sì, sì. Oh, Rosita, ma ci sveli qualche mistero, per favore. Intanto ti piace la cucina di Chiara e Vanessa? Ma una crepe alla Nutella dov'è per me? Certo. Grazie. Perché io un po' fa non ho assaggiato nulla. Oh, grazie, molto gentile. Le della forchetta. Rosita, insomma, innanzitutto ti piacciono i piatti, sono brava. Sì, tanto, tanto. Allora. Sono brava, complimenti. Ci vuoi svelare qualche mistero, per favore? Perché tu sei la donna del mistero, telenovelas. Eh? Ma? Beh, io vorrei dire soltanto una cosa. Ecco. Se me lo permette a dirlo. Beh, speriamo che sia carina come tu. Sì, padre, dei saluti a quelle persone con la lingua di forcuta. Mamma! Che disturba il nostro programma che porta tanta... Gioia. ...periccaccio e gioia. Guarda come sono preoccupata io. Eh, sì, fai bene, brava. Molto preoccupata. La migliore arma. E l'indifferenza. Sono preoccupatissima. Ho detto che la migliore arma per sconfiggerli è l'indifferenza. E poi mi auguro che il basterino, oppure che... Mi auguro che l'alieno, che si aggira dello studio e si porta via. Ma stiamo predisponendo delle navette verso Giove, Plutone, Marte. Perché se ne avevano andare a fare... Nello spazio, nello spazio. Sì, a fare... Per loro, perché per loro, spazio non ce n'è qua. Hanno bisogno di un altro spazio, cioè andare a fare un viaggetto. Oh, va bene, Rosita, ok. E poi con questo basta. E nemmeno te le tonate ti allungano ancora di più la catena. Basta, basta, vero. Ma Rosita, sei tu che la notte di Natale hai telefonato, sì o no? Sì, sì. Oh, Rosita, ci svelico, anche segreto, per favore. Torniamo alla nostra telenovela, perché le crepe ormai le state vedendo. Il procedimento è sempre quello, sono buonissime. Ci spieghi qualcosa? No, non chiedo niente perché è tutto perfetto. Ma, cioè, questa love story c'è o non c'è? No, 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 no. Ah, va bene, niente. Allora, no, no, perché ogni qualvolta ho si nasconde sotto il tavolo. O ho dietro il lavandino. E quindi, in questo momento sicuramente sono afficcato sotto il tavolo. Infatti non c'è, guarda. Chiami tu e sparisce, Leo. Io non lo so veramente, come mai. Non riesco a capire. E quella sera aveva la sindrome del lavandino, questa sera la sindrome dell'altro canale. Va bene, ma tanto tra poco potrai seguirlo. Va bene, cara Rosita? No, eh, non...